Italia in preghiera I media della conferenza episcopale italiana invitano i fedeli, le famiglie, le comunità religiose a ritrovarsi questa sera alle 21 per recitare insieme il rosario che verrà trasmesso da TV2000 e in Blurade La preghiera andrà in onda dal santuario della Beata Vergine di San Luca a Bologna Grazie a tutti